Buongiorno, sono Federica Taranto e vi do il benvenuto a nome della Yule Communication School alla presentazione del Master universitario in editoria e produzione musicale. A raccontarcelo per noi ci saranno il dottor Luca Cerchiari, la dottoressa Carlotta Zuccaro, il maestro Roberto Rossi, il professor William Everett, il dottor Roberto Razzini e la dottoressa Ilaria Narici. Prima di cominciare vi chiedo di silenziare i vostri microfoni e di spegnere le webcam. Ricordo che al termine dell'applicazione ci sarà uno spazio dedicato alle vostre domande attraverso la chat di Teams. Ora vi saluto e lascio la parola ai relatori. Grazie Federica Taranto, sono Luca Cerchiari, ideatore e responsabile del Master in editoria e produzione musicale dell'OIUM che quest'anno prossimo, 2022, giunge alla ottava edizione. Un saluto a Carlotta Zuccaro che vedete inquadrata con Federica Taranto che è la nostra tutor e che si occupa in modo particolarmente efficace e imprenditoriale della programmazione degli stage. Gli stage sono una parte essenziale. Essendo il Master un corso professionalizzante, gli stage si svolgono alla fine delle 500 ore d'aula. Quindi, troppo a settembre-ottobre fino a febbraio-marzo dell'anno successivo. Ringraziamo e con grande piacere diamo un saluto ai nostri ospiti di oggi che sono in primo luogo Roberto Razzini, benvenuto Razzini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, Roberto Razzini è il responsabile per l'Italia della Warner Chapel, cioè delle edizioni musicali di questa multinazionale. Warner Music discografia, Warner Chapel editoria. Roberto Rossi che vedete inquadrato e che saluto cordialmente. Buongiorno, ciao Luca, buongiorno a tutti. A sua volta è responsabile della produzione discografica italiana, quindi discografia. Abbiamo due rappresentanti, della produzione discografica e della produzione editoriale. Sono due aspetti molto strettamente collegati, ma anche diversi, di cui da sempre ci occupiamo nel Master con i corsi appositi, in particolare col corso di Musica e diritto ottenuto dall'avvocato Visco, il nostro collega che è uno dei maggiori esperti italiani di questa materia, e anche con Ilaria Narici. La dottoressa Narici è l'amministratore delegato di Ricordi, Halle Leonard, e sarà collegata tra poco con noi. Abbiamo il piacere di avere un ospite internazionale. Welcome to Bill Everett. Bill Everett che ci saluta dall'Inghilterra, è docente all'Università di Kansas City, è il maggiore esperto mondiale del musical, che è un argomento veramente trasversale tra teatro, cinema, produzione discografica e audiovisiva, e sarà nostro, è già stato ospite insieme ad altri docenti internazionali del Master, lo sarà l'anno prossimo, di nuovo, speriamo anche con Mitch Butler, cioè un suo collega di Kansas City, nel Master. Ecco, dico solo due cose brevemente, prima di lasciare la parola ai nostri colleghi e ospiti. Il Master si rivolge ogni anno a una trentina selezionata di studenti. Quest'anno, dato il successo del Master, abbiamo un criterio di selezione nei colloqui un pochino più impegnativo, perché abbiamo anche un piccolo scritto oltre al colloquio orale. Le 500 ore d'aula che si svolgono grossomodo tra febbraio e luglio sono suddivise nelle sei materie principali, cioè i generi musicali, storia della musica e musicologia, la produzione editoriale discografica, storia e prassi dell'editoria musicale, poi due materie fondamentali, diritto della musica, musica e diritto, economia della musica, che ha tra l'altro due docenti, di cui uno, il maestro Edoardo Gamble, è anche un professore di economia, ma è anche un direttore di coro. Noi abbiamo creato un coro dell'Università Hulme, io e Gamble, che funziona. Adesso appena l'ondata pandemica, grazie ai nostri illuminati politici, si starà riducendo, torneremo a cantare per celebrare questo. E poi abbiamo altre materie fondamentali, che sono inglese, la professoressa Giffin, che è madrelingua, e naturalmente informatica, che è una materia di base. Abbiamo una componente pratica, circa del 20% in tutte le materie, che si accentua nello stage. E qui concludo, abbiamo soprattutto un eccellente risultato nel job placement, cioè nel trovare le prime esperienze lavorative, gratuite nello stage, ma poi anche remunerate nel dopo stage, che riguarda appunto circa il 70%, cioè su all'incirca 180 studenti in sé edizioni, 150 circa sono occupati in questo settore. Gli studenti sono particolarmente interessati all'ambito della discografia e dell'editoria musicale, ma siccome l'editoria a cui è intestato il master dell'editoria e produzione, produzione vuol dire produzione discografica e produzione concertistica, anche di questo ci occupiamo. Ma l'editoria, che storicamente è la prima, è un oggetto non sempre conosciutissimo. Cominciamo quindi con Roberto Razzini per dirci qualcosa di che cosa fa, poi ce lo racconterà l'editore musicale e in particolare lui cosa sta facendo in questo momento in Warner Cep. Allora, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che trovo molto importante all'interno di questo master dare una presentazione di quelle che sono le diverse professionalità che si sviluppano attorno alla musica e in maniera primaria sono tre le professionalità più importanti. sono sicuramente quella dell'editoria musicale, della discografia e del management degli artisti. Dare, come dire, una spiegazione di come questi ruoli interagiscono tra loro credo che sia fondamentale per chi abbia il desiderio di entrare nel nostro mondo, prima di tutto per avere piena e totale consapevolezza di quali sono le professionalità e soprattutto poi cercare di trovare all'interno di questi tre comparti che poi possiamo approfondire e vedremo più in dettaglio ma sono molto articolati tra di loro cercare di trovare quella che si ritiene possa essere l'ambito professionale più vicino alle proprie caratteristiche. Quindi presentare in maniera abbastanza verticale la professionalità necessaria per poter operare nel nostro settore credo che sia uno degli scopi primari del master oltre ovviamente a completare con argomenti specifici una preparazione accademica. Quella che è la mia esperienza all'interno di questo master è la stretta vicinanza che questo master offre a tutti gli studenti di essere a contatto con le aziende aziende di primaria importanza sia da un punto di vista editoriale che da un punto di vista discografico e questo permette agli studenti non solo di approfondire la propria conoscenza accademica ma entrare in maniera concreta a stretto contatto con quello che è il mondo professionale che si occupa della musica. La musica ha tantissime professionalità molto importanti talvolta non si conoscono perché chi ascolta musica e chi beneficia della musica come utente non può sapere quali sono tutte le professionalità che si articolano ed è importantissimo cercare di portare al di fuori di quelli che sono i nostri recinti d'azienda quelle che sono le diverse caratteristiche che servono per entrare nel nostro settore. Nella musica si ha la percezione che tutto ruoti attorno all'artista questo è assolutamente vero ma è altrettanto vero che ci sono tantissime professionalità di cui il sistema ha bisogno che deve formare e che devono dare continuità a un processo molto importante e quindi questo master credo che svolga un'attività molto importante nel cercare di preparare i ragazzi e gli studenti a un ingresso nel mondo del lavoro già avendo conoscenza di quali sono le particolarità di un settore così specifico perché poi anche Roberto Rossi può testimoniare come il nostro sia stato per tanti anni purtroppo un ambiente un po' troppo autoreferenziale invece noi abbiamo bisogno di nuove idee di nuove professionalità per certi versi ma soprattutto di persone che portino esperienze che guardino al futuro e che non siano solo una declinazione aggiornata di situazioni passate Ecco, Razzini ha dato un quadro molto chiaro di come funziona diciamo in senso generale l'editoria musicale e è anche premesso l'importanza di evidenziare i vari ruoli che continuano anche a cambiare ad aggiornarsi nel settore sotto la spinta sostanzialmente dell'innovazione tecnologica e dell'adeguamento giuridico normativo perché queste sono le due pulsioni che determinano anche lo sviluppo di varianti nell'economia di settore quello che posso dire è che i profili tradizionali di cui il master non si occupa che sono già assolti dal sistema dei conservatori dell'università cioè il musicista l'interprete o compositore lo studioso ecco noi non ci occupiamo di questo noi ci occupiamo del cosiddetto terzo settore cioè della produzione della professione della musica sostanzialmente in un ambito privato e non in ambito pubblico perché il pubblico già assolve quindi sono due funzioni del resto complementari perché noi diciamo facciamo riferimento anche a queste Roberto Rossi benvenuto so che stai lavorando con Antonella stiamo lavorando sì in particolare in questo momento sì però raccontavo a Luca prima che abbiamo fatto una ristrutturazione nell'azienda in Sony che prima era un unico blocco diviso in diverse etichette invece abbiamo riportato alle due etichette madri diciamo Columbia ed Epic tutto quello che è il repertorio e tutta quella che è l'organizzazione dell'azienda Roberto Razzini ha fatto un'introduzione molto giusta sul fatto dei ruoli delle persone che escono dai nostri corsi e poi devono entrare nella nostra azienda che è ricca di diversi corridoi difficili complicati che bisogna conoscere noi siamo qui proprio per mostrare a voi questi corridoi e a me fa molto piacere vedere nei nostri fisicamente corridoi alcuni ragazzi che sono usciti dal corso e che mi ritrovo a lavorare insieme a noi soprattutto in un mondo cambiato come diceva Luca però cambiato verso il futuro ma la musica sta bene cioè ci sono molte cose da fare nell'ambito del digitale per esempio che vedremo insieme è chiaro che la struttura e l'organizzazione della casa discografica è molto ampia quindi io porterò il mio impegno e le mie informazioni nel presentarvi tutti i ruoli possibili che possano esserci all'interno chiaramente tenendo un punto di riferimento all'ENR che è la mia materia l'artist e il repertoire che è il core business diciamo di tutta insomma l'organizzazione discografica perché se non produciamo i dischi non produciamo musica come Roberto non trova canzoni che alle quali io credo sempre tanto no? e quindi è una linfa vitale per gli artisti le canzoni sono fondamentali poi vedremo anche un pochino proprio questo rapporto editoria discografia che è vero siamo lontani ma siamo comunque vicini perché ci deve essere un rapporto di interazione molto stretto perché come ripeto possiamo avere l'artista più bravo del mondo ma se non abbiamo la canzone si ferma tutto e quindi è molto importante quindi vedremo cosa è cambiato negli ultimi dieci anni del lavoro discografico oltre al rapporto con gli artisti che è fondamentale per l'ENR i produttori che è un altro ambito che sta cambiando c'è l'INFAB nuova ci sono dei giovani che stanno crescendo con nuove tecnologie nuovi modi nuovi modi di fare musica e quindi anche tutti i case histories che questa avventura musicale nel corso degli anni presenta e che poi sono esperienze che possono trovarsi di fronte a voi e dovete essere in grado di poterle affrontare quindi questo è un po' l'escursus che faremo insieme vorrei dire agli studenti che ci ascoltano che Viola D'Acquarone una studentessa il primo anno del Master è stata assunta e credo abbia cambiato recentemente anche di profilo assolutamente Viola ha cominciato nella classica insieme al nostro Luciano Rebegiani il capo della classica e adesso è un ENR di Columbia lavora insieme a me ed è molto molto brava una ragazza che sta anche facendo successo anche Francesco Sartori che lavora nel DG nella promozione anche in Warner avevamo avuto se ricorda Razzini degli stage c'erano stati due ragazzi assolutamente sì noi siamo sempre stati molto interessati ed aperti nell'accogliere ragazzi che vogliano fare lo stage presso la nostra azienda perché poi quello diventa un punto di partenza per un'ipotesi di rapporto professionale che può maturare e progredire deve esserci evidentemente corrispondenza di interessi però credo che lo stage sia un grandissimo punto di partenza e un'ottima opportunità per vedere il mondo del lavoro dall'interno e vedere applicate quelle che sono i percorsi che si affrontano soprattutto in un master come questo che è molto verticale tra l'altro un altro studente del primo anno Massimiliano Raff ha avuto delle esperienze in azienda ma da qualche anno insegna anche nel master storia della musica pop ecco questo per dire come se qualcuno ha degli skills delle competenze della passione della capacità autoimprenditoriale e anche delle idee come giustamente diciamo i nostri colleghi nuove le opportunità di lavoro ci sono sono più numerose e spesso sono anche sconosciute perché non tutti sanno che esistano certi profili certe possibilità e il master per quanto può è apposta stato creato per illustrarle se posso permettermi di aggiungere un ultimo concetto che secondo me è fondamentale il nostro è un lavoro creativo non solo da parte degli autori e degli artisti ma anche da parte di chi al di là a questa parte della scrivania svolge il proprio ruolo quindi il ruolo di Roberto Rossi è un ruolo assolutamente creativo nonostante sia un dirigente di una importantissima casa discografica come lo è il mio quindi è un lavoro molto interessante dove la fantasia e la creatività sono fondamentali quindi ecco vorrei dire a proposito di Roberto Rossi che Rossi è un musicista e anche direttore d'orchestra e lo vedete quasi tutti gli anni a Sanremo dirigere alcune canzoni ecco in l'arena Ricci quest'anno abbiamo quest'anno abbiamo avuto un Sanremo un po' particolare come sapete quindi è stato un po' sabattico sono andati in pochissimi di noi fisicamente gli studenti hanno visto Rossi anche sul palco del teatro Aristoni Sanremo I am Bill just a brief sintesi su una breve riassunto di quello che abbiamo detto per il nostro ospite americano che in questo momento è in Inghilterra Razzini e Rossi presentano le loro firme Warner Chapel e Sony e qual è il ruolo del pubblicatore qual è il ruolo del produttore e l'importanza della musica e delle canzoni Rossi è un musicista e un'orchestra conduttore di essere un produttore e tra l'altro dico sempre per gli studenti noi ogni anno grazie all'efficace azione della nostra tutor Carotta Zucchero andiamo anche in studio di registrazione con Rossi e quindi facciamo anche una pratica sul campo cioè una parte di questi aspetti pratici e teorici vengono svolti già in aula ma poi si va fisicamente anche sul campo benvenuta Ilaria Narici amministratore delegato di ricordi o Leonardo e da anni apprezzata docente nel master buongiorno Ilaria buongiorno buongiorno ecco Ilaria Narici è una donna io qui mi rivolgo alle donne collegate alle ragazze del master e questo ci fa vedere come oggi si parla molto delle quote rosa ecco questo magari è un tema che tutti non tutti condividono perché il problema non è quello di suddividere in percentuale ma è quello di valorizzare la professionalità femminile e anche se vogliamo la femminilità nel senso migliore che è leggermente diversa nel lavoro rispetto al ruolo maschile ecco Ilaria se puoi gentilmente riassumere cos'è la tua celebre ricordi ma a lei è una forse meno nota azienda qual è il tuo ruolo e qual è stata la tua esperienza in questi anni che come per Sony e come per Warner ha regolarmente portato anche degli studenti a fare lo stage e alcuni anche a lavorare poi nel vostro gruppo prego grazie mi si è consentito una piccolissima parentesi sulle quote rosa il fatto che ci sia ancora bisogno delle quote rosa la dice lunga su quello che è il lavoro femminile nel nostro paese e qui la chiudo comunque io sono insomma della fortunata posizione di dirigere un'azienda multinazionale in particolare la la branch diciamo la ramo italiano e lavoro appunto a stretto contatto con il nostro team di manager europei e americani a Leonardo è una società editoriale che si occupa dello sfruttamento del diritto di una parte del diritto d'autore che è quello del diciamo diritto di riproduzione grafica e della parte licensing dei diritti appunto per le riproduzioni grafiche a Leonardo ha acquisito il catalogo in amministrazione con un contratto di licenza a lungo termine tutti i cataloghi sia di musica classica che di musica pop di universal poi di altre major come Sony MI Pier Music e vari insomma diciamo che è uno specialista di settore che svolge questa attività di declinazione del diritto carta diciamo sui grandi cataloghi oltre appunto ai cataloghi pop dicevo i cataloghi storici come quello che citavi Luca di ricordi che appunto come sappiamo un catalogo storico che risale al 1808 e che appunto raccoglie sotto la sua diciamo sotto questo brand illustri compositori dei quali ormai purtroppo pochi in repertorio protetto cioè tutelato da diritto d'autore ma uno per tutti Giacomo Puccini Puccini certo esatto e alcune oper di Puccini poi perché la maggior parte del catalogo di Puccini ormai è caduto in pubblico dominio quello che che dico spesso ai nostri studenti è il fatto che da questo tipo di lavoro diciamo un tipo di attività quella della produzione musica stampa nella quale i docenti e appunto e gli studenti possono beneficiare di competenze spendibili in molti campi cioè quello che impariamo in un appunto nel corso del nostro master è certamente avere a che fare con i diritti di musica ma sono competenze che qualora uno dei nostri studenti volesse lavorare presso un grande editore si può ovviamente spendere vuol dire appunto trattare in particolare appunto avere a che fare con il mondo proprio della produzione dei volumi a stampa e digitali perché come sappiamo oggi l'editoria digitale è una realtà importante la vendita presso i canali digitali che è un altro aspetto fondamentale come abbiamo specialmente visto in questi ultimi funesti ormai anno e mesi e avere a che fare appunto con tutta l'attività di licensing che è un'attività che come dire ha dei parametri comuni nelle varie anche appunto nei vari ambiti discografico piuttosto che appunto strettamente editoriale per cui credo che appunto che dia la possibilità insomma di formazione di competenze spendibili nel campo professionale in modo efficace ecco ti chiedo cortesemente l'altra cosa che annunciavamo prima cioè diversi studenti del master in questi anni hanno effettuato uno stage presso di voi presso Ricordi Olean puoi riassumere rapidamente in quali ambiti scusate intervengo solo per salutare il dottor Razzini che deve salutarci certo ciao Roberto buongiorno a tutti mi scuso ma devo lasciarvi ma chiaramente ci vediamo ci vediamo ci vediamo in aula tra poco perché Razzini è docente già nel master di quest'anno 2021 e poi abbiamo tempo di fare la riunione per programmare il meglio 2022 grazie buona giornata a tutti voi chiedo scusa stava parlando Ilaria Narici sì certamente alcuni studenti in tutti gli anni di master hanno fatto stage presso la nostra realtà e alcuni di questi appunto diciamo che lo stage lo configuriamo normalmente come una un'esperienza che tocca i vari vari segmenti appunto dell'azienda dall'amministrazione le vendite la parte diciamo logistica la parte editoriale quindi insomma i ragazzi del corso dello stage hanno la possibilità di vedere appunto tutte le varie funzioni connesse all'attività editoriale in particolare appunto come ricordavi alcuni di questi ragazzi e oggi ne contiamo tre hanno sono stati assunti regolarmente a tempo indeterminato da Leonard e lavorano oggi nel campo del licensing del marketing editoriale quindi insomma a seconda delle competenze anche delle attitudini perché chiaramente lo stage è anche un luogo dove uno studente può mostrare le proprie attitudini appunto ne abbiamo beneficiato mutualmente insomma e quindi credo che sia stata un'esperienza molto positiva ecco siamo molto grati di questo Ilarina Ricci for Bill Ilarina Ricci head of recording on Leonard talk about the contents of the stages and the activity she is doing the precious activity as a teacher in the master and three of our students in the last years became are now working on permanent basis Bill Everett benvenuto welcome Bill Everett I will translate for you Bill Everett professore all'università di Kansas City in questo momento è in Inghilterra sarà nostro gradito ospite come già in passato Everett è come dicevo il maggiore esperto internazionale del musical ma si occupa ovviamente anche di altri argomenti can you talk a bit about your main topics like musical comedy and others and what could be your future interventions within the master se può dirci quali saranno quindi i suoi interventi l'anno prossimo quindi stiamo parlando della primavera 2022 ok thanks thank you very much and it's wonderful to be with you and to professor Cecchiati again for inviting me to participate in the program today and also in the in the master's program as he mentioned a lot of my own research concerns popular musical theater particularly coming from Broadway and also the west end in London and the sorts of things I would be discussing really could come under three big topics first of all is Rogers and Hammerstein these people who are often regarded as codifying so much of what is considered the Broadway musical and I'm actually working on a research project right now editing the Cambridge companion to Rogers and Hammerstein so I've been dealing with a lot of their music and so we'll be talking some about why why they are so significant and how they became significant and excuse me may I translate this first part allora il professore Ever che come dicevamo un esperto internazionale del musical si occupa in particolare quindi del musical teatrale di Broadway ma anche di quello cinematografico di Hollywood e in questo momento ha tre progetti principali il primo dei quali riguarda Rogers e Hammerstein che sono stati a proposito di canzoni di Cuarossi due grandissimi autori non solo della canzone ma insomma Rogers per la musica e Hammerstein come paroliere sono stati due dei grandi maestri della storia del musical e tutto questo confluirà in un volume della Cambridge University Press che Everett sta curando so this was the first part and then next would be a discussion of Cinderella Cenerentola and how there are three 21st century musicals that are retellings of this story so I will be discussing how that story has been presented really starting on some of the opera stages in the 19th century and then on 20th and 21st century musical stages and yes anche in tv e al cinema e non solo in palcoscenico, yes. And the final topic will deal with what has been happening with musical theatre in the past three years in London and New York. And of course, with the pandemic, everything is shut down. But the shows that were playing before the pandemic began, including original musicals and some very important revivals of classic musicals, and then also what the state will be when theatres reopen. And included in this, mentioning Cinderella, is Andrew Lloyd Webber, who has written Phantom of the Opera, Cats. He has created a new version of Cinderella that now is scheduled to open in June 2021. So it was supposed to open one year ago. So that actually will tie in some of these aspects of what is happening today with this theme of Cinderella. Come ci diceva adesso Everett, nonostante la pandemia e il virus, l'attività teatrale non si è arrestata. Quindi il terzo aspetto su cui lui sta indagando e su cui quindi ci riferirà anche nelle lezioni con video e contributi audiovisivi, è la produzione negli ultimi tre anni, nella quale si è registrata anche da parte di Andrew Lloyd Webber, che conosciamo essere il famoso coautore con Tim Rice di musicals come Jesus Christ Superstar, Fantasma dell'Opera e altri, di una versione di Cenerentola, appunto di Cinderella, su cui Bill Everett sta lavorando. A proposito di stage, stavamo programmando, ma si è poi interrotto, ma solo per via del virus che speriamo adesso dissolva nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, uno stage a Kansas City. We were playing a stage for a student of ours in Kansas City. We hope this will be possible again in the next year. Speriamo l'anno prossimo risolti i problemi, diciamo, di questa congiuntura, che è la possibilità dello stage a Kansas City, or in England, or maybe in UK somewhere. Quindi stiamo lavorando anche per incrementare nei prossimi anni, a partire dal 2022, una quota degli stage all'estero. Finora gli stage ci sono svolti quasi tutti in Italia, ma stiamo avviando una serie di collaborazioni internazionali. Da questo punto di vista, forse anche la Ria Narici, magari visto che a Leonard ha più sedi, lanciamo questa idea. Bene, abbiamo ancora una decina, e abbiamo 10 più minuti per parlare prima che i studenti si chiedono in. Roberto Rossi, ci puoi raccontare qualcosa in anticipo del tuo corso, come si svolge, come è articolato. Certo, beh, allora, come dicevo prima, approfondiremo, e mi fa molto piacere far vedere ai ragazzi, non solo le N.R., che è il mio campo, ma anche tutti gli altri campi, perché poi chi andrà a fare gli stage non verrà esclusivamente nelle N.R., anche perché le N.R. quest'anno, come dicevo, ci siamo riorganizzati, abbiamo 4 N.R. per la Columbia e 4 N.R. per la Epic, quindi siamo già abbastanza numerosi. Speriamo ancora di ampliare questo campo di N.R. perché è fondamentale per la creatività, per la ricerca di nuovi talenti, e ci occupiamo anche, prima non ne abbiamo parlato, anche di talent, quindi sia Amici, che i S.Factor, che il Festival di Sanremo, che rimane comunque il talent per eccellenza, e c'è moltissimo lavoro da fare su questi tre show, e andremo a capire, io ne ho fatti 11 di S.Factor, quasi 12, poi mi sono fermato perché non avevo più globuli rossi nel sangue, erano terminati, è sempre faticoso lavorare in questi ambiti, però c'è chi ci lavorerà e quindi è giusto sapere come funziona, come affrontarli, come organizzarli, eccetera, eccetera. E quindi, come dicevo, affronteremo anche l'analisi di alcuni reparti, come il digitale, che è molto importante, come il marketing, come anche il new business, che è un nuovo reparto che c'è da noi da qualche anno, per cercare indotti diversi, ma che fanno sempre parte della musica, quindi fa parte di un rapporto e di un'analisi economica, nel trovare uno sfruttamento di prodotti e utilizzare anche i nostri artisti per trovare un indotto diverso da quello della discografia, da quello dei dischi o quello delle meri canzoni. E quindi è molto interessante questo reparto che si sta espandendo molto velocemente. E più anche avere un discorso sul live e su quello che sta succedendo intorno alla musica e ai manager che producono musica dal vivo. Purtroppo quest'anno è stato duramente colpito e stiamo sperando che almeno gli eventi all'aperto possano ripartire e dare un po' di linfa vitale, perché dovete capire che fermare l'indotto live ferma un po' tutto, ferma il diritto d'autore, ferma quello che è tutto un indotto che nasce dagli showcase, dal promuovere anche la musica in altri modi, anche live, che è molto importante oggi. Quindi vedremo tutti questi argomenti. Voglio dare una piccola buona notizia. Ho appena ricevuto prima del webinar una mail dal canton Ticino, dalla Svizzera italiana, di invito a una serie di concerti a maggio. Ecco, quindi vuol dire che qualcosa si riapre e il Festival di Ravenna mi ha chiesto un testo per luglio, dove ci sarà la Rocca Malatristiana, dico delle cose su Astor Piazzola, di cui il famoso muricista di cui cade il centenario quest'anno, argentino, padre del tango moderno, e anche lì faranno i concerti live. Quindi speriamo, questo riguarda quindi due paesi vicini, Svizzera e Italia, speriamo che quindi si riaprano i giochi. Luca, volevo aggiungere una cosa importante, che al termine del nostro corso con Carlotta organizziamo sempre una lezione molto ricca, intensa, in uno studio di registrazione. Perché ci sono alcuni studenti che sono molto interessati anche alla parte un pochino più tecnologica, alla realizzazione della musica e di come si fa oggi, e quindi è importante entrare e approfondire questo argomento. Speriamo di farlo in presenza quest'anno, di portare i ragazzi nello studio, perché è sempre interessante, altrimenti la faremo online, ma cercheremo di affrontare tutti gli aspetti della registrazione anche. Ecco, io vorrei lasciare altri 4-5 minuti a Ilaria Narici, per concludere questa prima parte e poi apriamo le domande degli studenti. Vorrei dire, riprendendo quello che diceva Roberto Rossi prima, che parlava dell'importanza della composizione musicale della canzone. Quindi la musica è comunque al centro delle nostre attenzioni, è importante esserne informati in un modo panoramico il più approfondito possibile e naturalmente però le altre materie sono assolutamente altrettanto rilevanti, perché oggi senza cognizioni economiche, giuridiche, tecnologiche, linguistiche, psicologiche, relazionali, è impensabile programmare un futuro professionale. Ma la musica resta sempre al centro della nostra attenzione. E allora, lungi da un'autopromozionalità, faccio promozioni a me stesso. E ricordo a proposito di rimusica, due libri che utilizziamo abitualmente, questo è Miles Davis, This is a book of mine on Miles Davis, that we use regularly. E ringrazio Bill Everett che mi ha invitato recentemente a tenere una serie di lezioni all'Università di Kansas City on air su Mina, questo è un altro mio libro, Mina Mondadori. Questi sono due testi che noi utilizziamo abitualmente, ma naturalmente noi ci occupiamo molto anche di musica classica, con Quirino Principe e Stefano Lombardi Vallauri. Quirino Principe che è un'autorità internazionale e che stanno preparando appunto il loro, stanno per cominciare i loro corsi 2021 e si prepareranno nel 2022. Ecco, a proposito di Quirino Principe, gli sono grato anche del contatto col teatro alla scala, dove per esempio la dattoressa Sofia Ratti, che è la tutor d'aula di questa edizione 2021, ha effettuato degli stage gli anni scorsi che si sono momentaneamente interrotti, ma riprenderanno appunto sempre per via del virus e che sta lavorando molto bene quest'anno all'organizzazione del Master 2021. Ecco, Ilaria Narici, ti lascio con piacere altri 3-4 minuti di ricompletamento del discorso che abbiamo appena fatto e poi possiamo passare agli studenti che sono collegati. Prego. Prendo lo spunto da quello che dicevi sulla centralità della musica in questo corso. Mi piace ricordare che se nel corso, nelle lezioni che tengo io, affrontiamo molti aspetti tecnici proprio della produzione musicale, è vero che affrontiamo anche alcuni aspetti proprio più eminentemente musicali, quali ad esempio banalmente quali sono le forme di diffusione della musica su carta, quali sono i formati in cui sia la musica pop che la musica classica si, come dire, si sostanzia, come è fatta un'orchestra e come questa, la composizione di un'orchestra si riflette nell'ordinamento di una partitura. Per cui insomma ci sono molti aspetti che chiaramente se così beneficiano, possono beneficiare di conoscenze già precedenti insomma da parte degli studenti degli aspetti della musica, però diciamo che sono anche facilmente comprensibili che si avvicina alla musica o a questo tipo appunto di professione musicale magari su aspetti più di tipo appunto legali, giuridici, gestionali, di marketing. Ricordiamo sempre che appunto per fare il marketing su progetti musicali non è strettamente necessario essere dei rifiniti musicisti, però bisogna sapere di che cosa si sta parlando. Ecco, per cui una parte di competenza, ecco questo master credo che da parte di nessuno di noi ha l'ambizione di formare da zero al top, diciamo, le professioni musicali. Diciamo che sta anche nell'attitudine su questa cosa, io insisto sempre molto, sta molto nell'attitudine degli studenti di cercare anche in se stessi la propria strada, no? E trovare all'interno delle varie, dell'offerta del master che copre tanti aspetti, no? L'etnomusicologia, la parte appunto più legata all'Eandara, la parte appunto più storica, la parte appunto più gestionale e bisogna che anche gli studenti in qualche modo interroghino se stessi un po' su quello che vorranno essere da grandi, no? La fortuna di un master di questo genere credo che sia proprio quello però di offrire un panorama molto ampio. Panorama molto ampio nel quale poi ogni singolo studente può trovare in qualche modo il proprio canale privilegiato. Ecco, a complemento di quello che diceva adesso Ilaria Narici, vorrei dire a proposito della musica che ognuno di voi, mi rivolgo agli studenti perché ormai conosciamo dopo anni, ha un genere musicale preferenziale, no? Da qui vieni. Allora, lo scopo del master non è quello di dissuaderlo dalle sue passioni, anzi, però le passioni non devono essere il motivo per ribadire ciò che già si sa. Cioè l'importante è invece imparare ciò che non si conosce, che è infinito. Naturalmente noi abbiamo un numero di ore e di mesi a disposizione limitato, ciò nonostante ci occupiamo di tutti i generi musicali, dalla musica etnica alla canzone, dalla musica classica al jazz, dal musical fino all'hip hop e agli ultimi generi più recenti, alla canzone d'autore, qui torno ancora a Venditi, a Roberto Rossi, al suo lavoro, con Claudio Baglioni e con molti altri importanti interpreti e autori in questo senso. Bene, ci avviciniamo alle 11.15, ringraziamo e thank you very much Bill Evert, if you want to stay tuned, maybe we have some questions from the students that we'll start in a minute. Rivedo Federica Tanto, che ringrazio, che è la persona con cui poi gli studenti che vogliono iscriversi al Master hanno dei colloqui telefonici o degli scambi informativi via mail per fissare gli incontri. Ecco, e ricordo che appunto da quest'anno, cioè il 2022, siccome abbiamo già dei pre-scritti, che magari sono collegati e che saluto, oltre al colloquio orale con me c'è anche uno scritto, perché vediamo che gli studenti non leggono molto, gli suggeriamo di leggere di più. Quindi questo scritto sono dieci libri musicali di tutti i generi di cui fare delle schede in modo da informarsi in un modo più panoramico e non soltanto di ciò che si conosce e si piace, ma di tutti i generi, perché la musica nel suo complesso è un patrimonio indispensabile proprio nella sua diversa articolazione per un professionista di oggi. Ognuno di noi viene da un genere ma deve fare anche lo sforzo che è anche un fatto di piacere, di passione e di informarsi sugli altri generi musicali che in realtà sono tutti collegati in qualche modo tra di loro, nonostante quello che una volta si ritenesse. C'erano due categorie, la musica classica e leggera, veramente sembra di parlare del secolo scorso e infatti è così. Bene, sono le 11.15 e a voi la parola quindi agli studenti. Buongiorno, sono un ragazzo di Sassari, riceviamo dei messaggini ma vorremmo anche Federica vedere, sono collegati anche in video? Prego. No, hanno scritto in chat, se vuole le domande. Sì, il ragazzo di Sassari che salutiamo. Sì, il ragazzo di Sassari che si occupa che si occupa quotidianamente di produzione e post-produzione musicale. Volevo chiedervi quanto secondo me può essere utile unire questo mio percorso musicale col vostro master al fine di avere una comprensione tale del funzionamento del mondo della Musa. Grazie, Lucio. Credo che possa rispondere Roberto Rossi su questo. Prego. Certo, è fondamentale l'unione delle due cose è fondamentale perché la conoscenza parleremo anche di produzione e di produttori quindi è un modo anche per entrare è sempre devo dirvi questo questo è un mestiere che è rimasto sempre legato un pochino alla conoscenza alla comunicazione ai passaparola eccetera e continua ad esserlo quindi avere una conoscenza approfondita del mondo produttivo di oggi è sicuramente fondamentale per te per allargare sicuramente le tue conoscenze e cercare di arrivare dei risultati con le tue produzioni che speriamo siano di successo e delle belle cose ecco comunque sicuramente è positivissimo io appoggio pienamente il corso per te perché potrebbe essere una chiave di svolta Perfetto abbiamo un'altra domanda Federica ci chiedono in che periodo si tengono i colloqui di prescrizione di selezione e dentro quando va confermata l'eventuale iscrizione allora i colloqui di selezione sono già attivi perché abbiamo già cinque persone e questo ci fa piacere perché siamo in aprile stiamo parlando di un inizio a febbraio 2022 quindi devo dire che Iulme è molto efficiente da questo punto di vista complimenti a Federica Taranto alle Sia Scoria e a tutto il team di scuole di comunicazione lascio rispondere Federica Taranto sul secondo punto della domanda Sì come ha detto il professor Cerchiari le prescrizioni sono già aperte e pochi giorni dopo l'invio della candidatura viene fissato il colloquio di selezione e una volta sostenuto il colloquio poi dopo qualche giorno si avrà anche l'esito del colloquio e quindi poi si potrà procedere con l'immatricolazione Mi sembra sia arrivata un'altra domanda che chiede dei costi e delle borse di studio ecco allora io rispondo rispondo su scusate che abbasso un secondo solo ecco allora le borse di studio sono quattro e vengono erogate ogni anno sulla base della graduatoria la graduatoria prevede dei voti e quindi una media è chi ha la voto di media più alti i primi quattro avranno la borsa di studio il costo di iscrizione al master io non rispondo non perché non lo sappia ma potrebbe variare forse la risposta migliore è guardare il sito del master da questo punto di vista dove trovate le informazioni anche sul costo oppure se vuole le federe si è 7500 può essere dilazionato in tre rate una avverrà al momento dell'iscrizione e poi nei mesi successivi ci sarà il pagamento delle rate successive abbiamo altre domande ecco la domanda che ho appena visto forse più che rispondere noi possiamo potete poi interloquire con Federica Taranto e con gli uffici se ci sono delle domande approfittando anche dei nostri ospiti abbiamo ancora tempo siamo a vostra disposizione nel frattempo diciamo che è la frequenza al master è obbligatoria ed è previsto appunto l'80% di presenza sul monte ore totale per quanto riguarda quindi è consentito un 20% di assenze che vuol dire su 500 ore 100 ore sì al momento stiamo il master comunque è pensato per essere svolto in presenza e quindi si dovrà capire quale sarà la situazione il prossimo anno ma le lezioni sono in presenza ecco in questo momento proprio oggi io sto per andare all'università di Ume e riprendere le lezioni in aula in questo momento siamo in un regime misto presenza online ci auguriamo che da qui a febbraio l'ondata sia sia esaurita speriamo ci sono altre questioni siamo abbiamo ancora dieci minuti a vostra disposizione e confermiamo che è possibile fare la missione con riserva nel caso in cui non si è laureati al momento diciamo dell'iscrizione al master ecco sì cioè se uno ha ancora un esame o solo la tesi può cominciare a iscriversi e poi completerà l'esame e la discussione della tesi e purché questo accada entro il termine di febbraio entro marzo esami finiti e laurea entro marzo esami ci saranno project work con i partner sì questo lo stiamo già facendo del resto il project work è già parte del percorso in aula e in esterna poi era arrivata anche un'altra domanda precedente di fabio pastore che ci dice buongiorno sono un laureato in scienze della comunicazione impersonator vocale e coreografico di michael jackson oltre che molto appassionato di spettacolo di musica internazionale in generale e televisione secondo voi una mia partecipazione al master può essermi utile grazie mille e non possiamo che rispondere a questa domanda queste simpatiche rivela una certa ingenuità di fondo che fa piacere bisogna credere più lei ci crede e più c'è un limite di età per l'accesso al master o agli stage no abbiamo quest'anno abbiamo uno studente molto bravo Samuel Tanka pianista che ha 40 anni quindi non c'è un limite naturalmente la media è più di studenti essendo il master rivolto ad almeno laureati triennali di un'età che oscilla tra i 22 e i 30 grosso modo laureati triennali o diplomati di conservatorio o laureati magistrali ecco questa è la provenienza complessiva escludiamo per via degli ECTS le scuole pareggiate o corsi universitari con lauree all'estero che hanno creato questo lo dico perché abbiamo avuto qualche problema burocratico negli anni scorsi vedo ancora Ilaria Narici stiamo per concludere c'è qualche domanda che volete fare magari ai nostri ospiti quindi Ilaria Narici ricordi O'Leon Bill Everett Università di Kansas City in Inghilterra Roberto Rossi Sony Music Columbia o alla nostra tutor Carlotta Zucro che si occupa degli stage e che quindi ogni anno come stiamo facendo adesso sta completando il quadro degli stage quest'anno ecco chiedo io a Carlotta a vostro favore possiamo anticipare gli stage di quest'anno che abbiamo finora definito 2021 sì vabbè a parte questi già preannunciati con O'Leonard c'è la Mimesis ci sarà molto probabilmente anche MN.com che è un'agenza di comunicazione c'è la Metatron ci sarà molto probabilmente se riapre la Verdi di Milano quindi la parte live il Halidon che si occupa di editoria invece online ricordiamo la cooperativa La Cosa di Massimo Pontellaro che è uno dei nostri partner colleghi storici anche docenti che ogni anno fa molti stage importanti nell'ambito del rapporto musica-televisione loro lavorano la principale società italiana che si occupa per le reti RAI Mediaset e Sky cioè tutti i tre più grossi centri di produzione televisiva in Italia della sincronizzazione tra musica e immagine per la TV la Warner Sony insomma poi dipende molto anche da come ci si presenta i colloqui perché quello che diciamo sempre è che noi abbiamo le aziende ma bisogna essere scelti poi dall'azienda quindi presentarsi al meglio so che poi ci sono alcuni studenti che hanno anche un interesse a scrivere perché non esiste in Italia un corso sulla scrittura cioè sulla scrittura critica cioè la critica musicale a questo proposito stiamo preparando per l'autunno un convegno internazionale sulla critica musicale a cui inviteremo se tutto procede anche il professore Everett proprio per venire incontro quanti posti sono ancora disponibili considerando coloro c'è un'altra domanda beh di posti ce ne sono almeno ancora una ventina però come si dice nel proverbio chi prima arriva meglio alloggia perché l'anno scorso abbiamo avuto più del doppio di domande rispetto ai posti disponibili alla fine del master viene lasciato una testa viene lasciato un diploma di master di primo livello con i crediti relativi sì c'è un'altra domanda Federica sì salve ho conosciuto il master tramite gli iscritti dell'avvocato Visco alcune ricerche sulla sua figura quanto può risultare utile a monte un background giuridico laurea in giurisprudenza nell'ambito di questa esperienza specifica lascio rispondere la dottoressa Narici che pensa quanto è utile un background giuridico assolutamente direi che è utilissimo e infatti anche con l'avvocato Visco anche come azienda lavoriamo spesso perché lui è rappresentante a volte di grandi editori e quindi facciamo trattative e proprio nel master insomma ci sono argomenti che sprettamente che hanno a che fare con la gestione appunto dei contratti di licenza e quindi con con aspetti giuridici insomma sul diritto d'autore ovviamente la conoscenza del diritto d'autore l'analisi di alcuni articoli della legge sul diritto d'autore particolarmente pertinenti e fondamentali per muoversi in modo corretto facendo rispettare i propri diritti e rispettando i diritti devo dire che appunto tutt'oggi si riscontra moltissima ignoranza o a volte anche un po' falsa ignoranza su questo tema aggiungo su questo che devo dire che i profili giuridici i profili diciamo economici anche in fase di stage e proseguo poi di eventuali placement sono molto ricercati poiché rari per cui mi sento di dire che assolutamente è un percorso se interessati alla musica all'editoria è un percorso quasi certo io posso dare la testimonianza di Patrizio Visco che è mio coetaneo amico e collega da molti anni mi ricordo quando abbiamo iniziato questo lavoro lui ha avuto l'idea di dire beh io sono laureato in legge ho una passione per la musica potrei coniugare le due cose la giurisprudenza e la musica è diventato forse il più celebre ed esperto avvocato esperto in diritto autore della musica e come diceva giustamente adesso calotta a zucchero sono profili molto ricercati per questo noi abbiamo inserito dal primo anno ormai 2013-14 del master due materie fondamentali che sono appunto il diritto d'autore in ambito musicale e l'economia della musica lo dico subito sono due materie per chi è abituato a occuparsi sempre solo di musica che va benissimo abbastanza impegnative e ostiche il diritto è complesso e quindi ci vuole anche una certa pazienza è uno studio perché è una materia però è una materia assolutamente centrale per lavorare in questo anno mi sembra perdonami io vi devo abbandonare saluto perché ho un'altra call non posso mancare grazie a tutti buon corso grazie a voi vi aspettiamo numerosi grazie Ruperto ciao arrivederci ciao arrivederci larianerici alle altre ricordi arrivederci goodbye William Eber thank you very much for being here and we wait you in the in the master next year with some Kansas City colleague wonderful thank you very much thank you very much bye grazie Luc grazie Carlotta Federica un'ultima domanda mi sembra Federica vogliamo chiarire che lo stage è uno stage curriculare quindi viene considerato come un proseguimento del percorso di studi e poi l'ultima domanda Francesca scrive ci sarà una parte di studio inerente la parte del management intenso come pieno contatto con l'artista e come gestire la sua figura e comunicazione con tutte le altre realtà che ruotano attorno ad esso certo questo lo fanno sia Razzini sia Rossi che sono stati i nostri ospiti oggi grazie arrivederci a tutti buona giornata a presto grazie a Carlotta Zuccro Federica Taranto iscrivetevi al Masteryum in editoria e produzione musicale sarete contenti arrivederci grazie arrivederci